La notizia della notifica da parte della Guardia di Finanza degli inviti ad effettuare contradduzioni alla Corte dei Conti in merito ad un presunto danno erariale da 107.000 euro contestato dalla magistratura contabile, arriva come un fulmine a ciel sereno sull'ultimo giorno da Presidente della provincia di Enrico Di Giuseppe Antonio. L'inchiesta della Corte dei Conti nasce da quella della Procura di Chieti e da un esposto del 2010 presentato da un disabile di rapino, Lorenzo Torto, secondo il quale alla provincia di Chieti ci sarebbero state otto assunzioni pilotate. Io sono sereno perché ho profondo rispetto nei confronti della magistratura che ovviamente agisce in seguito anche a un esposto, la Corte dei Conti ci ha chiesto di controdedurre, noi lo faremo, abbiamo fatto le assunzioni, lo stretto necessario per far funzionare questo ente. Ho anche detto è un ente che ha meno 300 dipendenti nel suo organico, abbiamo fatto sacrifici incredibili per farlo funzionare. Penso che saranno gli avvocati anche a verificare un po' la correttezza di alcuni passaggi contenuti in quell'articolo. Comunque non sono avvisi di garanzia, possiamo dire. Non sono avvisi di garanzia ma è un'inchiesta già partita da moltissimo tempo e che forse per esigenze sceniche c'è necessità di pubblicarle ogni tanto. Quelle assunzioni però erano necessarie per l'ente? Assolutamente, ho detto 300 dipendenti in meno, uffici sguarniti, io non ho neanche l'ufficio stampa che svolgo io, gratuitamente perché faccio il presidente della provincia gratuitamente.